Per questo concerto di violoncelia del Conservatorio? Sì, molto contenta, infatti è il mio primo concerto. Devo vedere. Devo guardare là. No, come le persone famose. Ma lo stavo facendo bene, vai, vai. No, come le persone famose. Allora eccoci, sono in compagnia di Maria Pia De Vito. Io innanzitutto sono stata contentissima dell'invito, conoscendo la statura di Luca. E poi ho sentito questa composizione di Luca, che si chiama Devotion, il cui testo tra l'altro è anche uno scritto di Luca che è stato tradotto abilmente in inglese. E devo dire che sono rimasta molto colpita dalla composizione, proprio dalla qualità armonica della composizione. E il colore dei violoncelli insieme è una cosa paradisiaca per cantarci sopra. Per cui è stata una cosa bella e anche emozionante, perché è un brano molto largo, molto piano. E Luca, bontà sua, mi ha lasciato libera di pronunciare, interpretare, di avere un suono anche sporco, se vogliamo. Blusi in certi punti per assecondare la poesia del testo. And here, on the edges of the green sea. On the edges of the brown mountain Siamo molto onorati di partecipare a questo concerto inaugurale della stagione concertistica di quest'anno in conservatorio. E non vediamo l'ora. Manca un'ora e siamo tutti tutti pronti.